Sono arrivato col treno Centoporte a Laveno-Mombello, parte tra un'ora, eccola qui, il treno Centoporte-Laveno-Milano-Centrale. Guardavo se trovavo il mio amico Dimitrios che mi aveva promesso che era qua e non c'è Dimitrios, non c'è proprio, vuol dire che tornerò da solo. Volevo salutarlo, mi aveva detto il 2 giugno, io mantengo la parola. Comunque in questo momento sto guardando il treno Centoporte. Già anni indietro, poi l'ho visto pure quest'anno, a Brenna Alzate. Sono qui al treno Centoporte e si può salire? No, c'è tempo un'ora. Comunque mi interessa il passato, la partenza di questo treno e devo dire che sono in questo momento ad ammirare il treno a vapore, come una volta era più senso di umanità. Salivano le donne del tempo passato sollevando la gonna lunga e facendo i gradini. E poi bastava un fazzoletto per salutare la persona abbassando il finestrino. Ora è tutta una cosa computerizzata, si vede. Comunque si può provare la differenza del tempo passato al tempo attuale. Io tornerei indietro nei tempi perché mi piace di più il vivere di una volta. Comunque accetto anche la modernità perché si possono fare tante cose in questo momento moderno che siamo nel 2024. Sono qua, vedete, una volta non c'era l'ascensore, non c'erano tutte queste comodità alla stazione di Laveno. Ora sono qui ad ammirare questo treno Centoporte, denominato così, che tra poco parte vi saluto da questo YouTube di Laveno Monbello.